Salve a tutti qui ecco lo shop e vediamo subito cosa ci riserverà lo shop di oggi sono molto fiducioso che ho visto muovo stile molto bello questa era già uscita mi sembra manichino anche questo qua è molto bello anche la sua versione maschile il zainetto è bellissimo con la sua katana questa qua è molto bella e costa 800 cioè dovete prenderla tutti per forze mi piace molto a mio fratello un po' piace anche a me ok va bene è rimasto il bundle di silver e niente lo shop finisce qua ah io c'è un nuovo pacchetto da 4 euro lo shop finisce qua al prossimo shop